Decine di calze della Befana, dolci e balocchi ai piccoli pazienti dell'ospedale maggiore di Modica. Circa un quintale di genere alimentari, ma anche vestiario e giocattori, al convento del Rosario di Scicli. Bambini felici per una giornata che non dimenticheranno tanto presto. E la soddisfazione di aver donato allegria, sorrisi e doni, e coinvolto soci, famiglie, imprese, in un gesto di grande generosità. Questo è il bilancio dell'iniziativa Solidarietà in 500, organizzata dal club Fiat 500 Vittorio Brambilla, che si è conclusa nel giorno dell'Epifania. Sabato mattina la Befana si è recata nel nostro commio Modicana a bordo di una 500 e accompagnata da una delegazione del club. Ha incontrato i bambini nella ludoteca del reparto di pediatria e consegnato loro le calze piene di dolciumi e i doni. Nel pomeriggio dieci storiche utilitari hanno fatto tappa da AG, incontrata Beneventano a Modica, punto di raccolta per le varie donazioni. Caricati i doni sulle vetture dopo un brindisi di ringraziamento offerto dall'azienda, i soci sono ripartiti per il convento del Rosario di Scicli, il centro di urno per minori che accoglie una settantina tra bambini e adolescenti. Grande è stata la loro sorpresa quando, dopo aver svuotato le vetture di cibo e giocattoli, sono stati invitati a salire sulle 500 per un breve tour del centro cittadino. Il colorato corteo, con in testa la vettura ospitante alla Befana, ha attraversato le vie di Scicli tra gli strilli festanti dei bambini. Insieme con tutti quanti i soci quest'anno abbiamo deciso, in quanto facciamo 20 anni di associazione, di mirare tutto il 2018 alla solidarietà. E proprio partendo da questa prima manifestazione, solidarietà in 500, il giorno della Befana, e regalare un sorriso a dei bambini meno fortunati, l'abbiamo fatto già stamattina in pediatria. E in più, ora, oggi pomeriggio, con partenza qua da G-Distribuzione, il quale ringraziamo per la disponibilità, sia nella qualità del proprietario e anche delle cassiere che si sono messe a disposizione di questa bellissima iniziativa, e stiamo partendo proprio da qua per andare al convento di Scicli a portare doni e tutto quello raccolto. Come potete vedere alle mie spalle c'è una 500 piena di tutto quello che è stato donato per questi bambini meno fortunati. Successo anche per la Befana dei Vigili, organizzata a Modica. Tante le aziende e i privati che hanno voluto contribuire. Soddisfazione ha espresso il comandante, che ha dichiarato che saranno una quarantina le famiglie bisognose individuate dai servizi sociali di Modica, che saranno beneficiate. Benvenuto a queste iniziative capaci di regalare un sorriso a grandi e piccini.